Musica Nei prossimi anni farà parlare sicuramente di sé. Con l'accattivante claim a sapore alla Lettonia, la Svizzera del Baltico, dal 2004 nell'Unione Europea e dal 2014 nel sistema dell'Euro, ha recentemente conquistato interesse e palato della stampa di visitatori dell'artigiano in fiera, svoltosi alla fiera di Milano Ro. Davvero convincenti, i piatti elaborati nel corso di due show cooking da Eriks Drebans e Iuris Dukalskis, chef emergenti di Riga. Ricette tradizionali, dagli abbinamenti sorprendenti, dai pesci di acqua dolce a quelli di mare, dai salumi affumicati alla pregiata carne di cervo. Sapori decisi, ingentiliti da crema di cana, pasciroppo di vetulla, salsa di granchi e minuscole pigne candite, da accompagnare a strati di frutta, ottima birra, sidro e bevanda di mele cotogne. Un assaggio di quello che la Lettonia, con tutte le sue grandi attrattive turistiche e naturalistiche, può offrire e che nel 2018, anno del centenario della Repubblica, darà uno spunto in più per farne la meta delle proprie vacanze. Grazie. Grazie a tutti.